TELESPETTATORI 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 PERSONA Io sono sempre stato questo A me se purtroppo non mi è andato in qualcosa l'ho sempre detto l'ho sempre sternato questo è il mio carattere vedo oggi cagnolini che fondamentalmente fino a gennaio, marzo, febbraio aprile dello scorso anno erano dei leoni vedo oggi il biondo che è la novità e allora no, non è così non è così non è la novità perché chi è stato in giunta provinciana chi è stato uomo di deputati presidenti della regione chi è stato chi ha avuto degli incarichi politici non può presentarsi come il luogo al di sopra dei partiti lei mi sta anticipando su una domanda che avevo già pronta non l'avevo letta no assolutamente anche perché non abbiamo fatto neanche in tempo di parlarci prima di accomodarci nei nostri studi perché lei era impegnato telefonicamente per chiudere la parentesi che aveva aperto non possiamo oggi presentarci come il nuovo io per primo di me tutti sanno che ho transitato in due partiti fondamentalmente perché io vengo eletto nella lista perché non ho nulla da nascondere il problema mio non è il loro problema è inverso a loro io non ho nulla da nascondere io sono uscito sono stato eletto nella lista dell'UDEUR che non era un il mio partito ma una lista alla quale io mi ero io non avevo partito alla quale mi ero appoggiato perché appoggiavo la candidatura del sindaco Zambuto credevo nel progetto al di sopra dei partiti dopo circa due mesi questa prima sindacatura Zambuto in quel momento io credo in quel progetto mi candido la mia era una candidatura di servizio non ero assolutamente così perché infatti andavo ho fatto la campagna elettorale al sindaco dopo due tre mesi quattro mesi quello che fu il progetto va a fuoco va a fuoco perché fu questo e io mi lascio completamente non avevo un incarico non avevo mai avuto io non ho mai avuto un incarico politico simil tale e mi ritiro tranquillamente nel mio essere venivo qua nella vostra trasmissione sportiva io ero un uomo io sono un uomo di sport prestato alla politica fondamentalmente ho continuato la mia strada entro in consiglio comunale l'Udeur non esiste più il progetto Zambuto non c'è più è solo per una questione di amicizia ho sempre detto nella mia presentazione agli atti ci sono gli atti visivi vostre interviste di altre televisioni private dove dichiaro che io per amicizia aderivo a un progetto che era quello del PDL ad Agrigento il PDL alla mia riconferma in consiglio comunale inizio la mia attività continuo la mia attività la mia attività dava fastidio a quel PDL di allora cittadino venivo attaccato dai miei colleghi in conferenza dei capigruppo e in consiglio comunale e decido di fuoriuscirne senza chiedere mai un impegno senza chiedere mai un incarico senza chiedere mai nulla alla politica e parentesi crocetta mi ero illuso come tanti cittadini siciliani che crocetta potesse essere quella persona che avrebbe portato la legalità negli ambiti regionali e negli ambiti locali mi ero illuso di questo mi sono tirato fuori e rimango e sono rimasto indipendente tengo a dire che la mia indipendenza è sempre stata tale anche quando ero all'interno del PDL non ho mai votato un atto e onestamente non mi è mai stato detto o obbligato a farlo indifferente da come la intendevo io la cosa perciò io sono e rimango adesso mi rimproverano che sono troppo libero per essere sindaco del genere sono felice di essere così e questa è la storia degli altri non conosciamo degli altri io invito i miei cittadini a conoscere la verità certo lei ha detto poco fa di non voler fare in nome però qualche giorno fa pesante è stata la sua lettera firmata da lei nei confronti di altri due presunti candidati e definiamoli così Marco Marcolin della Lega Nord e l'onorevole Lillo Firetto che attualmente oltre a essere deputato regionale è anche sindaco di Porta Empedocle lei ha scritto nessuno dei due ha l'idea del cambiamento perché ad Agrigento arriva gente da fuori Peppe Di Rosa qual è la necessità di volere gente da fuori senza nulla togliere a Marcolin e Lillo Firetto che conosciamo bene non è il volere la gente da fuori Marco Marcolin arriva ad Agrigento e dovrà spiegare lui tramite chi e come Lillo Firetto io vorrei capire se da deputato non ha fatto nulla per Agrigento se oggi finalmente finalmente oggi con un minimo di opposizione comunque la candidatura di Marcolin possa anche avere una spiegazione che è quella che la Lega vuole mettersi in gioco anche nel nostro territorio siciliano ecco ecco aspetta scusami la Lega vuole mettersi in gioco no se candida un sindaco di Montebelluna ad Agrigento deputato nazionale non vuole mettersi in gioco vuole impossessarsi dei voti dei siciliani è diverso io non sono assolutamente contro il progetto Lega a livello politico nazionale io sono contrario a che la Lega prenda un sindaco di Cornuta di Montebelluno e lo venga a candidare ad Agrigento perché colpito sulla strada di Damasco si innamora di Agrigento Marcolin dica la verità dica con chi va al ristorante dica con chi si accomoda nelle riunioni non è così non è così non sarò io assolutamente ad animare questa campagna elettorale in tal senso io voglio parlare dei miei programmi Lillo Firetto Lillo Firetto insomma oggi il PD di Porto Empedocle esce fuori con una let con un documento l'NCD di Porto Empedocle ne esce un altro cosa c'è da dire da aggiungere se il presidente del consiglio lo sfida in televisione se Luigi Troia se il PD a giorni mi dicono farà addirittura una conferenza stampa oltre al documento ma prima di tutto se la veda con Porto Empedocle è normale che se ormai lui si ritiene candidato ad agrigento dovrà anche mostrare ad agrigento il suo programma non ho sentito ancora Filetto parlare di eventuale programma non ha detto ancora ha scritto sul suo profilo facebook un'affermazione ma non ha parlato ancora di programma confrontiamoci col programma cosa ne pensa dell'acqua pubblica cosa ne pensa del ricassificatore perché lui ha detto in una trasmissione televisiva il ricassificatore l'Enel non lo vorrà più fare ma tu da sindaco lo faresti fare allora e lì anche perché lui è dirigente di Enel ha dei parenti dipendenti di Enel la moglie la cognata tutti dipendono da quello c'è un chiaro è chiarissimo l'indirizzo c'è ma poi c'è la chiara incompatibilità andiamo avanti dica alla gente dica alla città quello che vuole fare di Agrigento io ho già mostrato i progetti mai un candidato sindaco di Agrigento si era visto che mostrava i progetti io parlo di volere rilanciare il porticciolo turistico di Agrigento il turismo nautico e guarda caso poi diventa uno dei primi obiettivi dell'eventuale candidato del ministro Alfano felicissimo io quel giorno perché vuol dire che sto andando per la strada giusta per aver detto le stesse cose mie un deputato nazionale ma non sento parlare di acqua pubblica Firetto non sento parlare di altro ma parliamo confrontiamoci con i programmi poi la gente dovrà decidere certo anche io onestamente se dovessi vedere quello che si è fatto a Porto Empedocle in questi cinque anni tre anni in questo periodo e quello che non si è fatto ad Agrigento avrei qualche dubbio perché dico ma perché ad Agrigento non si facevano le cose ma Firetto lo sa perché non si facevano era in giunta Firetto era in giunta con Zambuto Firetto fa eleggere Zambuto Zambuto appoggia la candidatura di Firetto e gli completano la lista la lista per le regionale lo fa diventare deputato regionale erano assieme l'uno segretario regionale l'uno presidente del partito ma di che parliamo chi è il nuovo Firetto Marco Lin assolutamente no poi ognuno potrebbe essere il candidato di Agrigento 2020 anche se Agrigento 2020 ricorrerà alle primarie come detto l'8 di marzo non lo so possono essere i candidati di tutti quindi dovrebbe fare le primarie Lillo Firetto ma con la nuova legge ma Lillo Firetto ha detto che il primarie non è fatto perché lui è più bello e più bravo ma ora non è candidato di Agrigento 2020 ma ti ripeto la sera delle candidature ufficiali ci inizieremo a confrontare con i candidati ma ci dovremmo confrontare con i progetti con i programmi non è che ci confronteremo col io farò o io non farò con i programmi ma con i programmi attenzione di quello che vogliamo realmente della città di quello che voglio io della mia città della mia città la gente lo sa basta andare su Google e scrivere Giuseppe Tiroso consigliere comale e vedere il mio lavoro effettuato in questi tre anni io quello che ho fatto è quello che ho proposto di fare perché non dimentichiamoci che il consigliere comunale propone non è in amministrazione chi mi rimproverava il fatto di essere stato vicino a Zambuto in politica ci sono due scelte e lo scrivo uno dei miei motti elettorali è quello in politica o accetti quello che è o ti metti in gioco e certi chi di cambiare io è dal quando sono stato in consiglio comunale dal 27 novembre del 2011 che io mi sono messo in gioco metto la mia faccia metto il mio coraggio e a disposizione della città quello che riesco a fare riesco a fare quello che non riesco oggi non ho potere se avrò la possibilità da sindaco di poter dimostrare se so fare o meno ho già detto che in 24 mesi ho dato chiari messaggi ho presentato un mio programma di 13 punti che se non rispetterò nei due anni me ne vado a casa io non ho assolutamente interesse a fare politica come quella che hanno fatto loro e continuano a fare non ho altri miei obiettivi io me ne posso tornare a fare quello che facevo tranquillamente e serenamente ho un mio impegno morale e di dignità da rispettare con tutti i giovani che ho cresciuto nella mia scuola calci che ho sempre chiamato figli e con le mie figlie perché vorrei riuscire a contribuire a cambiare questa città altro non penso ed è un bello obiettivo quello che ti poni che succede con il movimento di più c'è una nuova nota stampa inviatami in redazione quella l'ho chiarita prima di arrivare in trasmissione ero proprio al telefono di rosa l'insonnia l'illegito sintetizzo brevemente ho già chiamato ci siamo in palco i manifesti elettorali non è che i manifesti li affiggo io era stato dato l'indirizzo alla ditta di coprire perché erano già stati stampati nel periodo in cui loro avevano in cui in cui loro avevano deciso di contribuire alla mia campagna elettorale avevo bloccato i manifesti si sono fatti ristampare i simboli col simbolo della mia lista e nel giorno in cui li hanno messi cioè ieri dovevano essere coperti i simboli il loro simbolo un errore della ditta che li affiggeva solo per mezz'ora non più di mezz'ora è già stato chiarito ritengo non rispondo neppure alla nota perché capisco poi c'è da dire questo e questa è un ulteriore dimostrazione non ci siamo assolutamente parlati la nota è scritta da un loro addetto stampa che è stato molto un po' più un po' più che leggero nello scrivere ma assolutamente no c'è stata assolutamente cordiale la mia telefonata con il loro segretario nazionale Marco Arcuri non era nelle mie intenzioni non affiggo io i manifesti è ovvio è stato chiarito ritengo che poi se ci sarà un seguito non ritengo assolutamente già chiarito da parte mia una volta in una trasmissione televisiva con un collega ci hanno fatto tipo il tapiro questa trasmissione diceva sì tutto chiarito tutto a posto l'indomani l'avvocato mi notificò un qualcosa per fare la battuta non ritengo che sia il caso ma era oltretutto un problema di un manifesto affisso in mezz'ora è stato ricoperto discorso chiuso uno dei suoi ultimi impegni un sopralluogo nell'area di cantiere del progetto denominato Terra Vecchia unitamente ad un esperto del centro storico un atto ispettivo vero e proprio cosa è emerso anche perché noi lunedì non eravamo presenti nel mese di ottobre avevo fatto il mio primo atto ispettivo al cantiere Terra Vecchia premetto che io il cantiere Terra Vecchia lo inizio a citare nei miei atti già nel 2011 non appena insediato nel dicembre del 2011 nei primi del 2012 io chiedevo addirittura di effettuare un consiglio comunale straordinario per il problema Terra Vecchia poi il problema Terra Vecchia è diventato come tutto purtroppo ad Agrigento diventano problemi politici della politica becera non di quella attiva effattiva si arriva che il cantiere parte quando il cantiere parte si era concordato tramite l'ufficio di presidenza tramite la commissione dei capi gruppo la conferenza dei capi gruppo si erano invitati i tecnici all'interno del consiglio avevamo spinto noi tutti perché il progetto non fosse bloccato in quello che si diceva cioè l'esempio pavimentazione in cemento armato l'esempio ti faccio invece no abbiamo chiesto che man mano si fosse proceduto con gli scavi andava a variarsi eventualmente la progettazione nel mese di ottobre ero stato lì con le televisioni abbiamo fatto un sopralluogo si era già visto cosa era emesso dal sottosuolo e lunedì ho rifatto un altro sopralluogo ritengo che vada chiarito che l'intervento del consigliere comunale è ufficiale chiunque tra i cittadini agrigentini si è voluto recare al cantiere ha potuto visionare perché i nostri tecnici non sono assolutamente contrari a questo certo è che devono farle nelle maniere giuste per la sicurezza e ho potuto constatare che il ritrovamento di alcune fondamenta di alcune di alcuni locali nuovi un lavatoio nell'area dove doveva nascere un giardino con visuale al mare proprio davanti alla palazzina che poi sarà oggetto di ripristino da parte di ristrutturazione da parte del privato del socio privato lì anziché un giardino verrà lasciato alla possibilità di poter essere visionato da turisti o da quanti altri vogliono andare il progetto non sta subendo assolutamente né una ferma né assolutamente un imbinguamento economico non verrà assolutamente rifinanziato con gli stessi soldi si andrà a variare con l'ausilio della soprintendenza e dei nostri tecnici stanno immediatamente variando il progetto in essere non ci sono novità all'orizzonte non c'è è tutto nella norma è normale che io nella mia qualità di consigliere comunale sono andato lì ho fatto il mio atto ispettivo e ho appurato quello che c'era nessun problema all'evidenza dei fatti perciò il cantiere procede procede benissimo anzi benvengano io vorrei dire benvengano questi progetti benvengano i finanziamenti privati e pubblici a soccorso di quello che non ha saputo fare la politica becera nell'ultimo vendennio sagra del mandorlo in fiore 2015 c'è stata la conferenza stampa di presentazione la scorsa settimana diffuso il programma di massima dell'evento si parte il 12 febbraio si conclude tutto il 22 febbraio lei poco prima aveva indetto una conferenza stampa sulla manifestazione è sempre del parere che fosse la meglio saltare questa Kermess per l'anno 2015 chiariamo che io sono favorevolissimo alla sagra tutti siamo favorevolissimi la sagra è un bene immane per Agrigento è un bene immenso per Agrigento ieri sono stato al parco archeologico ne ho parlato anche con il direttore del parco e ho chiesto ma scusatemi ma se noi io ero sindaco e venivo da lei e le dicevo investiamo 20 mila euro del bilancio del 2014 del 30% che va al comune immediatamente per la promozione della sagra 2015 l'avremmo potuto fare? certo che sì certo che sì allora anziché così ti porto magari può essere pure che avrai la domanda pronta anziché dare 30 mila euro ad un'associazione per due ore di spettacolo bellissimo con 120 spettatori al teatro Pirandello per un premio per il quale negli anni si era dato 5 mila al massimo 10 mila euro di contributo il commissario straordinario anziché mettere 30 mila euro di contributo a quell'associazione 10 mila euro li dava a quell'associazione e 20 mila euro li indirizzava alla promozione della sagra del mandorlo 2015 avremmo iniziato la promozione della sagra nel mese di settembre con lo stesso programma avremmo potuto benissimo svolgere la sagra e pazienza per ora purtroppo in momenti di magra si procedeva con il minimo indispensabile con la spesa di quanto io è quello che rimprovero infatti nella mia conferenza stampa dico io addirittura rilancio la sagra la rilancio dicendo creiamo un ente sagra o addirittura la fondazione sagra o addirittura la fondazione pirandello che assorbe quella della sagra quella manifestazione della sagra in ultimo dico pure cerchiamo eventualmente di vendere pure il brand non dimenticando che ad Agrigento abbiamo delle grandi professionalità in quanto a folklore ma una cosa è il festival del folklore un'altra è la sagra del mandorlo la sagra del mandorlo che leggo gli organizzatori quest'anno finalmente faranno tornare un simil mandorlag non mi dicano che fanno tornare il mandorlag come era una volta perché no ma non perché mi arrabbierei perché quel mandorlag lì faceva mangiare tanti di quegli imprenditori che ci campavano un anno e quei tempi sono finiti va organizzato tutto con le maestranze agrigentine con le grandi professionalità agrigentine possibilmente con i bandi perché un gioco che ormai è facile fare al comune di Grigento è che perché non ci saranno i tempi tutto verrà giudicato all'amico ed è sbagliato per me devono lavorare tutte le maestranze e innanzitutto mi rifaccio ad altre mie iniziative va pagato chi lavora perché ancora c'è gente che deve avere i soldi della sagra del 2012 e i soldi della sagra del 2014 noi organizziamo quella del 2015 però ci sono circa 40.000 euro di residui debiti ancora da pagare di quella scorsa e circa 15.000 euro della sagra del 2012 ancora da effettuare i pagamenti alle persone che hanno lavorato per quelle sagre ditemi voi se non devo io porto a conoscenza della città le problematiche e do pure le soluzioni non sono colui il quale fa solo distruzione io costruisco pure poi purtroppo non ho oggi la possibilità di governare io se dovesse averla spero di portare avanti queste iniziative anche sui finanziamenti PAES il piano d'azione per l'energia sostenibile lei è stato polemico lo ricordiamo qualche settimana fa anche in questo caso è stato polemico ma costruttivo polemico costruttivo certamente come altri consiglieri avevano fatto nel passato che scadesse il bando io avviso l'amministrazione o chi oggi ci amministra i dirigenti quelli che sono che il 31 scade un bando gli do 15 giorni ancora ma vorrei capire cosa hanno fatto nell'anno e mezzo sia il sindaco prima che si è dimesso che il commissario dopo il dirigente ai lavori pubblici cosa hanno fatto oltretutto lì purtroppo poi entro in discussione come candidato sindaco io nel mio programma da sindaco grande risonanza grande rilievo do al Paes a quello che potrebbe venire dal Paes che sono gli investimenti sulle fondi rinnovabili te ne dico una tra tante tanto ormai non è che me la potranno rubare come idea ma Gesù tu sai che noi dal progetto Lillo Sodano Agrigento ha nel suo piano per gli investimenti triennali dei lavori pubblici le scale mobili che collegano la parte bassa di Agrigento col centro storico cioè la cosiddetta scala della Banca d'Italia e le cosiddette scale che portano dalla zona di Atenea al centro storico ma capisci che si può presentare un progetto col Paes e l'abbiamo già pronto questo progetto non mi vengano a dire che non ce l'abbiamo pronto questo è un abbattimento del CO2 che producono le macchine questo può essere inserito nel Paes io ho un mio consulente spero quando rientrerà prima possibile dall'estero un mio consulente all'energia che presenterò alla stampa che potrebbe anche essere il mio primo assessore dobbiamo spero solo in occasione del tuo cinquantesimo compleanno domani ah è domani quindi proprio mentre stiamo andando in onda ti facciamo gli auguri grazie cioè capisci cosa ti voglio io sul Paes punto se l'amministrazione non mi non mi presenta il Paes al su un sito proprio adatto da parte della comunità europea Agrigento perderà per sei anni tutti i possibili finanziamenti da portare ad Agrigento e non ci sono limiti tu puoi presentare progetti anche per 20 milioni di euro se vengono ritenuti efficienti e efficaci puoi andare avanti e ti vengono finanziati ne è uscito un altro le smart city cioè tu puoi trasformare treni elettrici stazioni di di ricarica macchine elettriche ad Agrigento camminare con la macchina elettrica qualcuno dice che sia pupiamento oppure come dice il biondo annacamento ci annacchiamo noi da Agrigento io dico che invece è colui il quale ama la natura e ama l'ambiente io due anni fa ho comprato la macchina elettrica vendendo la motocicletta che molti camminano in moto da Agrigento io non potendomi più permettere fisicamente di camminare con la moto perché avevo un problema di un'ernia ho comprato la macchina elettrica potrevo comprarla a scoppio l'ho comprata elettrica mi sono fatto la mia centralina a spese mie e tutto invece il comune potrebbe dare l'opportunità montando delle centraline in città te ne dico un'altra delle mie iniziative nel mio programma montare delle centraline di ricarica macchine elettriche dotare il comune di Agrigento di mezzi a trazione elettrica che possano transitare ad Agrigento nel centro storico che facciano servizio in via Tenea perché via Tenea deve essere ZTL totale e tutto questo nasce dal PAES dal piano di sviluppo dell'energia sostenibile ma se io non faccio quello che sto facendo e do pure la soluzione ho messo in contatto i nostri dirigenti col mio consulente all'energia ma cosa devo fare di più penso non possa apprezzabile il suo per sollecitare appunto questo piano d'azione ritorniamo ai partiti politici forse non ne vorrà parlare ma io cerco di stuzzicarla vediamo se ci riesco come spiega il feeling della coalizione Agrigento 2020 ad esempio PD insieme al patto per il territorio se adesso la memoria non mi inganna il patto parte con Zambuto poi va fuori con Zambuto Zambuto va al PD e adesso il patto si ritrova con il PD scusami la domanda qual è come mai come lo giudichi ah ecco posso giudicarlo perché nessuno ad Agrigento vuole perdere il potere solo quella è la spiegazione quindi tutti insieme tipo Arracalmuto con Emilio Messana ma non solo tutti insieme lì c'è pure chi ha cercato di fare come hanno fatto a Porta Empedocle tutto un agglomerato tutta una mucchiata su di un candidato non sono riuscite a farlo allora oggi le primarie non vanno più bene fino a ieri andava bene come ieri si doveva fare l'elettriclassificatore oggi non si deve più fare lì ci sarebbe ti ripeto da fare non una trasmissione ma tanti ma oltretutto ti ripeto sarà bello parlarne diviso con queste persone perché loro stessi dovranno dire quello che vogliono fare di Agrigento se vorranno fare quello che hanno fatto delle loro amministrazioni siamo punte a capo non ritengo che si debba stendere solo un velo pietoso ognuno di loro presenti il meglio che ha poi ci misureremo sul campo ci misureremo con i progetti con i programmi e con la faccia io non ho problema a misurarmi con nessuno ho sempre detto e lo ribadisco fino alla morte che io non ho assolutamente intenzione di ritirare la mia candidatura che dovrà bocciarmi se lo riterrà la mia città il momento in cui sarò bocciato ritirerò il Revinbar che me ne vado a casa però la città sta vedendo cosa sta succedendo ammucchiate grandi ammucchiate il più bello il più biondo gente che fino a ieri era l'unico oppositore nella campagna elettorale di Portembedo che oggi sponsorizza quel sindaco da Agrigento cosa c'è stato anche lui colpito sulla via di Damasco tutte a Damasco se ne vanno vediamo i fratelli d'Italia invece annunciano non voteremo Firetto fratelli d'Italia ho letto stamattina oltretutto hanno messo il pezzo l'hanno fatto una mucchiata con una mia smentita di ieri fratelli d'Italia smentisce il fatto di poter votare Firetto e aveva preannunciato giorni fa la fusione con altri due movimenti civici cittadini progetto Agrigento e ama la tua città oltretutto aprono la discussione ad altri candidati sindaci sono aperti alla discussione io onestamente ho già contattato uno dei responsabili di Fratelli d'Italia Lillo Pisano il mio collega al quale ho detto che se vogliono io sono pronto a sedermi ad un tavolo ad aprire la discussione con loro nulla togliendo nulla togliendo nulla togliendo l'ho chiesto io non è che sto chiudendo sono loro l'ho chiesto io di poterci confrontare e capire dove vogliono parare loro e se gli piace il mio progetto poi onestamente possiamo anche discutere se ne parla da qualche settimana il Movimento 5 Stelle ha sollevato con una tabella diffusa gli organi di stampa anche noi oggi ce ne siamo occupati nei nostri Tg le somme degli incassi di voi consiglieri comunali tramite riunioni in commissioni da gennaio a settembre 2014 tra poco il nostro regista Massimo Mattina farà vedere questa tabella si tratta del noto caso dell'eccessivo numero di riunioni di commissioni 1133 in un anno la media è di 3,1 al giorno compresi sabato domenica e festivi nella tabella figura anche lei con quasi 8.000 euro 158 gettoni vogliamo essere chiari su questa tabella ho subito detto è la prima volta che ne parlo e non vorrei dilungarmi troppo perché parlarne secondo me quasi inutile dopo quello che si è sollevato che sembrerebbe che io mi voglia discolpare assolutamente no nella mia intervista spero di vedere quanto prima abballerò il giornalista ha capito come la penso io intanto premetto che si è fatto si è sollevato parlerò su rete si è alzato un polverone su di un caso che è uno dei casi della mala politica non è la mala politica io sto qua a dire che se i cittadini se anche un solo cittadino può dire che le 8.000 quasi euro mie all'ordo cioè 4.500 euro net parliamo di questo si parla di questo non ne sono il piccolo contributo che io ho riscosso dalle casse comunali per poter finanziare la mia attività politica in parte perché posso assicurarti che io spendo molto di più molto ma molto di più io sono vicepresidente del consiglio e non ho altri gettoni come qualcuno invece asserisce vedi poi vado a parlare dell'io non voglio essere non vuole la mia non ne voglio parlare perché sembrerebbe anche la possibilità ma sembrerebbe che io voglia discolpare me e incolpare i miei colleghi no assolutamente anche perché ognuno dei miei colleghi anche coloro che hanno superato un certo limite di commissioni è a norma di legge ognuno ho detto e lo ripeto lo ribadirò fino alla nausea risponderà ai propri elettori con la propria faccia e col proprio cedolino non penso che i miei elettori quelli passati e quelli che potrebbero essere possono rimproverarmi di avere riscosso ripeto circa 400 euro nette al mese ritengo che giornalmente sono al comune ho fatto la mia attività una grande attività in questi tre anni non ritengo di avere né rubato né tantomeno lucrato un qualcosa le mie commissioni sono presidente della sesta commissione da un po' di tempo non da subito ma da circa un anno mi sono alternato col collega Picone la nostra commissione è nei limiti regolari delle tante commissioni io vorrei capire come mai il 5 Stelle va a fare questa grande va a alzare questo grande polverone ad Agrigento perché si sta andando a votare e non parla di Palermo quando a Palermo fanno un gettone 150 euro non 50 come ad Agrigento e fanno molte più commissioni che ad Agrigento come mai ad Agrigento ci sono le elezioni il problema è questo non stanno colpendo tutti seppure ci troviamo tutti nel calderone del Consiglio Comunale ma dico che continuando a parlarne avevo detto ai miei colleghi gli si sta dando forse troppa importanza ma non perché assolutamente siamo tutti nel giusto perché dovremmo fare poi l'io dovremmo difendere l'io e a me non va ho detto io ho sempre detto che faccio parte dei 30 consiglieri che purtroppo la verità è che veramente ci sono stati limiti superati dell'indecenza però ognuno ne risponde delle proprie azioni io ho 158 commissioni gettoni in questi 158 attenzione ho almeno 20 presenze in un anno da Presidente del Consiglio perché quando sostituisco il Presidente del Consiglio io comunque è come se fossi presente a gettone non a indennità come il Presidente perciò qualcosa che non va c'è dico io non prendo altre indennità come qualcuno dice mentre i vicepresidenti precedenti delle consigliature precedenti prendevano l'indennità come ad esempio si elogia e non voglio assolutamente andare contro per dirti la disinformazione giornalistica certe volte eppure si elogia il consigliere Trupia perché non ha fatto commissione ma non ne faceva aveva l'indennità Trupia riscuoteva 1800 1600 euro zero gettoni ma l'indennità la prendeva seppure al 50% ma era 1800 euro non sto accusando Trupia perché prendeva quello che gli iscrivano stiamo spiegando il perché anzi si era ridotto però tu leggi in un commento internet zero commissione scusami bravo Trupia leggi in un commento internet attenzione oltre al gettoni perché capiscono che ho preso troppo poco attenzione manca l'indennità da vicepresidente non prendo indennità bravo Trupia ma non è così perché Trupia è a zero ma perché prendeva l'indennità da presidente e allora questa è la disinformazione ripeto non c'è nulla da difendere perché era tutto nella norma ho detto come ho detto ti ripeto a Ballarò a Rai 3 che tutto va rivisto con la legge tutto va rivisto con la legge perché oggi io vorrei dire ai miei cittadini sapete quanti deputati ha avuto a Grigento negli anni passati sapete quanto riscuotono ancora come assegno vitalizio dalla regione il minimo 6.000 euro a Grigento c'è qualcuno che prende 80.000 euro in pensione al mese io non so chi è il minimo il minimo 6.000 euro al mese ma ci sono deputati che non sono deputati da 15 anni da 20 anni che ancora oggi prendono 10.000 euro al mese e allora scusatemi io che faccio il consigliere comunale dovrei vergognarmi delle 400 euro nette che ho preso c'è chi invece prende 6.000 10.000 8.000 euro al mese di vitalizio attenzione in aggiunta poi che questi stessi deputati nelle loro carriere sono diventati grandi dirigenti e prendono pure quella da dirigente e dovrei vergognarmi io assolutamente no ripeto non sono mai entrato nella discussione perché non voglio arrivare all'io perché io sono a posto però non voglio accusare neppure i miei colleghi perché sono nella norma e poi stiamo parlando di quasi 8.000 euro che non sono nemmeno netti in 8 mesi non credo che ti sei arricchito vorrei dire anche a chi continua con lo stilicidio nei siti si diverte la gente su facebook vorrei dire anche che io a differenza del presidente degli assessori non ho il telefonino che il mio telefonino purtroppo mi costa 150 euro ogni bimestre e non ha sommo altre cifre e dovrei continuare io ho dovuto chiudere un'attività non faccio più l'allenatore di calcio non faccio più altre attività che facevo io sto facendo politica nel vero senso della politica poi quello che si vuole dire alla fine ripeto andrò con la mia faccia a spiegare ai miei elettori spero che crescano i miei elettori però purtroppo non posso farci niente se poi chi ha sollevato questo polverone è colui il quale si è fatto dare 7.000 euro per trasportare un carretto a Bruxelles colui il quale organizzava al teatro Pirandello una serata con i soldi del senato e costava 15.000 euro una serata colui il quale poi fondamentalmente chiedeva il posto di lavoro ancora pochi mesi fa al deputato di turno si è fatto il giro di tutte le segreterie io non ho chiesto nulla a nessuno se qualcuno mi era vicino per avere qualcosa si è allontanato perché io non chiedo nulla a nessuno allora poi l'agrigente è piccola ci conosciamo tutti perché ti dico e poi al momento opportuno se tu purtroppo colpisci chi dispara perisce dispara perisce al momento opportuno dovremo dire alla gente come stanno le cose dovrai pur dire tu a Bruxelles con i soldi di Forza Italia ci sei andato non ci sei andato con i tuoi soldi e allora come diventi 5 stelle oggi tu hai fatto l'assessore come diventi 5 stelle oggi tutti 5 stelle diventano io ho sempre detto che la 6 stella grigentina sono stato io e non voglio stendo un velo pietoso perché poi andremo a toccare degli equilibri che non voglio assolutamente io intaccare al momento non li tocchiamo chiudiamo in bellezza questa trasmissione questo appuntamento settimanale non l'abbiamo fatta apposta nemmeno questo oggi festeggi 50 anni come li festeggi ma in famiglia hai organizzato qualcosa in famiglia tranquillamente serenamente tranquillamente io ormai per me la domenica è della famiglia possibilmente anche il sabato pomeriggio è normale che in campagna elettorale non sarà così perché sono momenti diversi quando riesco la domenica vado allo stadio perché per me l'acra che si rimane nel mio cuore sei stato presidente lo ricordiamo sono stato presidente dell'acra sono stato presidente dell'acragas e del favara molti non si rendono conto che sono due delle società a sé e poi c'è il licata oltre a queste due più gloriose della provincia di Grigio qualcuno mi rimprovera ha giocato in serie di qualcuno mi rimprovera ancora oggi su facebook qualche mia qualche mio errore all'acragas ma li invito a non farmi parlare di acragas perché se se io parlo di acragas dovrebbero nascondersi un bel po' di persone alle Grigento ma nascondersene però senza la parola dai deputati all'ultimo sponsor perciò stiamo tutti quieti stiamo tutti tranquilli ho sempre messo la mia faccia se ricordi mettevo la mia faccia nessuno mi credeva però subivo quello che oggi sta subendo l'acra perché se l'hanno subito loro è successo il pandemonio ministri prefetto i presidenti della regione tutti a stendere la mettersi mi hanno messo la benzina in macchina mi hanno dato fuoco al negozio di mio cognato hanno quasi dato fuoco alla mia macchina meno male che è arrivato un carabiniere e nessuno lì ero io mi sembra qua la stessa situazione faccio l'esempio che diciamo in un certo senso mi fa pure comodo fare a me questo esempio nel 1990 89 forse l'anno che uccisero Pasquale Di Lorenzo mio collega in quel periodo lo stato italiano il prefetto di allora si rifiutò di fare il funerale il grande il funerale che meritava una vittima di mafia Pasquale Di Lorenzo anni dopo è venuto fuori da un pentito che era veramente stata la mafia di ucciderlo è venuto fuori il perché è tutto non ci sono assolutamente non si è potuto rifare il funerale ti voglio dire perciò io invito le persone a riflettere prima di insultare prima di anche quella questione del gettone a riflettere prima di insultare oggi leggevo su un zitto insulti a me che prendevo pure l'internet alla vicepresidente non è vero informatevi almeno prima di crocifiggere Gesù Cristo si dovevano informare dovevano lo hanno fatto di proposito allora invito le persone andarci caute tranquille con i piedi di piombo no perché se cadono a molla affogano con i piedi tranquilli ponderare quello che si dice anche perché ormai dietro la tastiera ci lasciamo andare tutti ci lasciamo andare tutti non ci rendiamo conto che poi fondamentalmente ci sono delle vignette che fanno vedere la casa del ricco bellissima la casa del povero e poi fanno vedere la tomba del ricco e la tomba del povero alla fine tutti là saremo a voglia di conseguenza continuare questo stilicidio a me può non piacere come amministratore Giuseppe Di Rosa ma io la penna ce l'ho io in mano e voterò per altri però lo stilicidio l'insulto il continuare a voler sfogare la loro rabbia anche perché l'ottanta per cento di rabbia sai da cosa diviene in queste persone dal non favore ricevuto perché questa terra la tengono nella necessità il grande successo e qui poi parleremo mi fai gli auguri e possiamo anche chiudere se vuoi perché se no mi dilungo perché se no mi dilungo il grande successo di tutti i deputati agrigendini compreso quello che si vuole venire a candidare sindaco sai qual è il grande successo essere riusciti essere riusciti a distruggere agrigendino e a mantenere il popolo agrigendino nel bisogno perché oggi arrivi da Portembedocle e arrivi con la bacchetta magica ma sei deputato dimettiti da deputato dimettiti da sindaco di Portembedocle e ti presenti col tuo programma di agrigendino confrontiamoci col programma non venire se ti firmi devi firmarti il sindaco di Portembedocle nella manifestazione che si è svolta al teatro Berandello il sindaco ci sarebbero tante cose da dire però ti ripeto parliamo dei nostri programmi misuriamoci sui programmi venga a parlare del PAES che non saranno nemmeno cos'è vengano a parlare e non cerchino di chiudermi la bocca perché è peggio è molto peggio la bocca non la si chiude è molto peggio è peggio perché io sono quello che vedono le persone non nascondo nulla non ho nulla di cui vergognarmi in politica se qualche errore calcisticamente l'ho fatto l'ho pagato con la mia faccia ma gli errori li facciamo ma è otto anni che non sono più presidente dell'Acri se ancora mi rimprovano qualcosa se è questo è quello che hanno da dire su di me Giuseppe auguri per i tuoi 50 anni e soprattutto auguri per la tua campagna elettorale avremo sempre modo di vederci nella nostra emittente grazie a te grazie ai nostri telespettatori velocemente gli orari giovedì ore 21 venerdì 15 e 40 sabato alle ore 23 domenica alle 15 e 15 e alle ore 21 su studio 98 canale 95 del digitale terrestre poi ci sono anche altre repliche sul secondo canale LCN 633 grazie ancora e arrivederci la prossima settimana con un nuovo ospite arrivederci grazie a tutti